Siamo con Michele Di Iorio, presidente di Credifarma agli stati generali della farmacia. Dottor Di Iorio, nel suo intervento lei ha fatto ruotare molti concetti intorno al nuovo ruolo di Credifarma, che non è più la vecchia Credifarma ma è qualcosa di diverso. Di diverso in che cosa? Credifarma è una struttura in fortissima evoluzione, così in evoluzione forte è la categoria e tutto il mondo che è intorno alla farmacia ruota. Abbiamo superato il momento dell'emergenza, oggi Credifarma non deve essere quella struttura finanziaria che soccorre il titolare di farmacia in difficoltà, ma deve essere quella struttura finanziaria, dico io anche di pedagogia finanziaria, che previene quelle che possono essere non più le difficoltà ma le esigenze di un'intera categoria. Pedagogia finanziaria nel senso che bisogna anche educare chi riceve il credito? Il mondo cambia, il meccanismo del credito è profondamente mutato da dieci anni a questa parte, è importante che Credifarma svolga questa opera di crescita, di formazione, tanto dei farmacisti quanto dei commercialisti che le farmacie sostengono, può per parlare una lingua ed evitare falsi miti e false soluzioni che spesso finiscono per danneggiare una farmacia danneggiando la quale si danneggia l'intera categoria. Credifarma ha appena subito una modifica del proprio assetto societario, di che tipo di modifica si tratta e che cosa succederà? Federfarma ha abbandonato i partner storici, ha individuato un nuovo partner con una significativa evoluzione nell'assetto societario, può per dare prodotti dal punto di vista bancario sempre più coerenti con quelle che sono, come dicevo precedentemente, le esigenze della categoria.